Piegaci! Komuna Kishi Komuna Kishi che è una parola giapponese Conoce a Kamaeshi Solo un corno ha messo il coso che sono io che mette di stare e comincio con qualcuno vicino Vediamo chi sceglie la nigga o il povero bianco o il povero vecchio il vecchio e il bianco Eh mi hai detto un povero bianco qui so due Di rumori ambigui che è sua Dillo mi dillo pure tu un rumore vai mi Anche Nascoria Nascoria radioattiva Non c'è collaborazione questo ragazzo non c'è niente da fare rimandato Mirko Bocciato fuori dai ho onesto Oh Deposito demolizioni Ma io non lo so se demolizzo Comunque quello ci demolisce a noi Esattamente Io ho cominciato vicino a Mirko per esempio Ecco vedi L'ho messo io oggetto io avvicino a nessuno Guarda che è proprio... Eccomi Eccomi Anche Chi è? Aspetta aspetta ritorniamo No 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 Oh ma si avvicina sto rumore e poi ritorna Cioè va via E' indeciso E' il cacciatore E' il cacciatore E' il cacciatore Vabbè io torno poi Mimica stareffa col generatore E' il cacciatore 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 Guarda qua dove gioca Ma lo stai riportando qua andrei? No No Tu t'ha posto Tu t'ha posto No perchè soffa Mannaggia i lag Cacciatore Mannaggia i laghi Mannaggia i laghi E' il cacciatore Oh va morita Oh va morita non cacciatore Cacciatore Vabbiamo qua andata a morire Vabbiamo qua andata a morire E' il cacciatore Ma guarda questa dall'altra parte della mappa per me Sì voi fate il genere Ma dove sta? Perché non si è dimenticato di Andrea E' il nuovo darkness my old friend Oh ma fai di giarderi Ma d'appeso L'ha preso Tanto che l'ha preso Dimmi che non sta preso Ah io vedo Che sta avvenendo Che sta avvenendo Verso di me sta avvenendo Però adesso io forse lo frego e posso salvare un Andrea Uno però eh non due perchè Sennò fai qua Arriva Andrea Arrivando 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 Lì L'imur me Doosta Andre Io ho paura Ma anche a me se la trapola Mmmh no Eh ce ne sono troppo eh Ma sta lì? Sta dietro dietro di me Mo uno lo sento Anco io però Prova dai prova non c'è dai prova 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 No dai non c'è non mi piace tanto No ma se ne andieni fai zic e zac tra i consigli se ci vede nella fine per me per te e per mirko io mi salvo quindi soccorrimi eh forse forse io ho visti chi va visti io a voi ah ok l'importante è che hai visto tu e non lui ah salga ta sto guardando in giro se lo vedo con la torcia a mano tu sei e sorvegliate ah il generatore che stiamo a fare all'inizio io e Andrea che prima ci importunava le signorine era quasi finito e adesso riprovo questo non ti piaceva tanto no perchè quello era finito fallo con Alessandro dove sta Alessandro poi sono rimasto il generatore qua prova Alessandro a parte l'ha calciato non era finito vabbè però mancherà poco l'hai riportato a uno a uno ha portato Limor Limor sta avvicinando la casa mannaggia all'africano allora io vedo anche uno qualcuno mi sa che sta venendo verso di noi ci sta acciduandè però perchè ti hai paura perchè mi emoziona trappola di merda niente il motore è maledetto secondo me ministro fai a asnoia ecco il motore ecco questo sta all'inizio mi ha appeso sta venendo verso un motore che sta accalciando qua vicino che era quasi fatto 40 volte lo sta accalciando lo sta a rompe lo sta a monza po' più fa sta a spuntare ma troppo lo abbatto sta a girare l'antono sta a mettere una trappolina all'altro ecco usa la nuova tecnica tira la sigaretta e incendi a sta foresta che merda maledetto oddio ok si sta allontanato sta allontanato beh allora non è buono mi sei andata a calciare l'altro ho mostrato tipo a tornare ha piazzato una trappola perché c'è la più in mano benissimo vabbè io provo a noi da Alessandro voi intanto provate a fare come direzione ecco l'universo devo in me sa fisi sta appena no sì 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 è quello che si è distraccato da deputati gruppo vede quello più vicino mi pare che sono io ok ora mi ha salvato ma ci sta nella propria qua vicino no segui chi ha il colore di colore guarda Mirko fa l'alternativo dove hai ma da nasconde qua dietro al furgoncino eh ma non mi piace queste cose dietro al furgoncino ah qua così questo non lo fa qua dietro al albero eh ma allora torna al motore ecco brava così no deve essere il contrario insomma eh ma ne arrivi da quel motore non eh ma è un'altra posto perché Mirko si sta a far confidenza mi sa che sta tipo a metà no mi sta a vendita mica dici niente sto nel eh questo ragazzo qui questo ragazzo eh lo dovete fare il buco ti abbiamo però che ha ferito Mirko non è andato più veloci che pipa Mirko ce la fai? mi ha messo tipo 248 ma lui fa e calmo ce lo riporta qua così non possiamo fare dai dai andiamo a fa quello che stiamo a finire prima mannaggia eh niente gli zombie ecco mi sono andato più amati grande proprio grande sfippa sfippa mi sfippa a te senti lo ti ha messo pure l'olio l'obazione del controller ma ci pensiamo noi prendiamo questo l'ha rimesso poi con l'olio prima ma sicuramente eccolo sì no sta cacciare i quasi vabbè intanto io faccio il giro quando ha aiuto a Mirko dai che era finito cazzo muoviene qua ci si scopa no ho finito lo stesso no ha tornato indietro sta riunita Mirko no dobbè Mirko dov'è? mi vuoi aprire porta che devo fare dei lì chi è? a botola avete guardato l'ho indicato Mirko dov'è? il fischio strategico sta venì perciò la porta sta venì cazzo eh questa che l'avete visto io sono razzista però mannaggia che c'è eh 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 senza fare i beep che va a tappare io Mirko quindi non sta da te no no allora che non c'è allora non è stata Andrea allora Mirko appena ti tiro giù segui mi Andrea però che cazzo Alessandro dove vai? ma che ha messo una trappola quanti prende se mi prende mi uccide no no venga venga guarda che sto stronzo ci sta a portare il killer mi perché me oh seguimi veloce sta qui la porta venite qui mannaggia seguite Mirko seguite a me eh eh cacchio si è messo dietro si è messo guarda che ce l'hai davanti ce l'hai vai 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 salvati infatti io mi ho fatto davanti chi è questo? ti copro io vai tutti vabbè 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 fanculo cioè che è successo? vabbè 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 e te lo dici perché non sono ne... eh 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 vabbè 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 lei non è un cosa? niente niente